Amici del software libero open source, benvenuti e bentornati in questa 155esima puntata del podcast di Marcos Box, una puntata quasi interamente dedicata alla nostra cara Ubuntu. E rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcos Box a commentare come sempre assieme a voi le principali notizie del mondo del software libero open source. Come ho detto all'inizio puntata sarà una puntata quasi esclusivamente dedicata a Ubuntu 23.10, la nuova versione semestrale della più famosa distribuzione Linux, più apprezzata, più odiata e in questo caso anche più vittima di malintenzionati. Perché c'è stato un increscioso episodio che ha coinvolto lo sviluppo di Ubuntu 23.10 che ha anche mostrato come non sempre avere tanti occhi puntati sul codice, sullo sviluppo di un prodotto open source, possa significare, possa corrispondere a una maggiore attenzione a rilevare eventuali problematiche, perché alla fine qua, in questo caso, se sei accorti a scoppio ritardato, come si dice a Foggia. Ma iniziamo con questa puntata. Prima di parlare di Ubuntu 23.10 parliamo del desktop environment utilizzato da Ubuntu, ovvero Gnome, perché c'è una notizia riguardante lo sviluppo di Gnome, che se dovesse andare in porto in tempi brevi significherebbe anche dover stravolgere Ubuntu, perché di conseguenza, essendo Ubuntu basata su Gnome, dovrà adeguarsi alle decisioni prese a monte, a meno che poi non decidano di fare delle modifiche del caso per poter riadattare la distribuzione. Parliamo di Gnome perché il secondo desktop environment più popolare al mondo sta pianificando l'abbandono della sessione X11. La notizia non è stata pubblicizzata direttamente da Gnome sui canali ufficiali, ma si è potuta scorgere, si è potuta avere questa notizia, per via e traverse grazie a due merge request che sono state pubblicate sul GitLab di Gnome, precisamente la merge request 98 e quella 99. Questo rappresenta il primo passo della deprecazione della sessione X11 su Gnome. Il file gnome.xorg.dextop viene rimosso, rimarranno però le funzionalità per adesso di X11 resteranno, in modo da poter ripressionare la sessione X11 qualora i programmatori lo vorranno. La sessione X11, sapete bene, nel corso del tempo ha visto sempre meno attenzione da parte del team che si occupa dei test per provare Gnome, e perché Gnome sta spingendo praticamente dal 2016 per la sessione Wayland. Diciamo che in un certo senso prima o poi sarebbe dovuto accadere dal 2016, ora siamo nel 2023, quasi 2024, quindi era anche ora, dovrebbe essere abbastanza matura la sessione Wayland, per poter essere propinata come sessione unica, diciamo così, per Gnome e Shell. La notizia comunque fa il paio con quanto annunciato anche da Fedora, che sta spingendo per l'abbandono di X11 sia per Gnome che per KDE Plasma, perché quelli di Fedora stanno pianificando di abbandonare la sessione X11 anche per edizione con KDE Plasma di Fedora, che stanno pianificando di farlo in corrispondenza del rilascio di KDE Plasma, sì, che si terrà il prossimo anno. Voi che cosa ne pensate? Avete provato la sessione Wayland? Non avete problemi? Sapete bene, i problemi principali quali sono? Sono con determinati applicativi, come viene da pensare ad esempio Blender, e ci sono anche altri problemi per quanto riguarda le prestazioni in altri ambiti specifici, con altri software specifici. E se avete una scheda video Nvidia, sapete bene che le cose non sono poi così tanto buone, o almeno non erano buone fino a poco tempo fa, le cose stanno comunque migliorando anche sotto questo punto di vista. Cosa ne pensate? Era ora, secondo voi? Siete ansiosi di avere un mondo senza X11? Fatelo sapere lasciando un commento sulle pagine del blog. Altra notizia di cui vi voglio parlare in questa puntata non è una notizia, in realtà è una guida. Una guida in stile Marcos Box, di quelle che pubblicavo tanto tempo fa sulle pagine, che mi hanno anche contribuito a far conoscere all'interno della community. E che cosa è successo? È successo che da qualche giorno io sto utilizzando in pianta stabile Firefox. O meglio, mi sono autoimposto di utilizzarlo come unico browser sia in ambiente Windows che in ambiente Linux, ovviamente, che l'Atomobile, che è quella cosa un po' più difficile da fare, perché l'Atomobile... Mi manca, mi manca la traduzione delle pagine, perché spesso e volentieri mi sto a visitare siti che non sono soltanto in lingue inglese, quindi inglese romastico, però ci sono altre lingue che non le conosco, e quindi è scocciante dover poi copiare il testo per andare a tradurre in italiano, l'Atomobile. Fortunatamente l'atto desktop, questa cosa, è stata risolta con l'ultima versione di Firefox, perché è stata introdotta la funzionalità di traduzione automatica delle pagine. Quindi, almeno sotto questo punto di vista, siamo coperti, quindi mi sono detto perché no, perché non tornare a utilizzare Firefox da tonde. C'ho anche la maglietta, qualche anno fa sono stato omaggiato da parte di Mozilla con una maglietta a tema Firefox. Sono sempre stato un utente Firefox, anzi sono stato un utente Firefox della prima ora, quindi diciamo così, nel mio caso è quella la situazione, è ritornare all'oviglia. Vabbè, dicevamo, dicevamo di questa guida che ho postato sulle pagine di Marcosbox. Mi sono imbattuto in un problema durante la navigazione con Firefox su KDN, quando mi trovavo a navigare su siti come Spotify, Netflix, Udemy, Insomma, tutti quei siti che utilizzano contenuti protetti da DRM. Sì, i DRM sono in male, lo so, però purtroppo se noi dobbiamo utilizzare certi servizi, ci tocca utilizzarli. Che cosa succedeva? Succedeva che mi veniva fuori un arresto anomalo dei plugin Udemy CDM e che mi impediva di caricare correttamente la pagina. Ho provato diversi guide, mi sono messo anche a cercare su diversi forum, come si faceva una volta, mi sono visto anche le faccule ufficiali di Mozilla, però all'inizio non sono riuscito a risolvere il problema, poi fortunatamente sono riuscito a trovare una soluzione su Ascubuntu. A quanto pare un problema del mancato caricamento del plugin Udemy su KDN è dato da Parmor e si verifica quando utilizziamo Firefox installato mediante il PPA del Mozilla Team PPA che viene utilizzato su KDN per evitare di utilizzare la versione snap di Firefox, perché quelli di KDN hanno voluto, diciamo così, vincere facili. Io speravo all'inizio che si mettessero a compilare per fattico, invece hanno voluto utilizzare questo PPA, che è un PPA che ha questo problema da diverso tempo, perché, da quel che si è potuto vedere, le prime segnalazioni di questo bug sono del lontano 2018. A Parmor che cosa fa? Non consente di eseguire il plugin Udemy dalla directory home e quindi si verifica questo problema. Come risolvere? C'è una guida che ho postato su Marcosbox che vi spiega come modificare il file userbin Firefox andando ad aggiungere una stringa che vi consente di evocare dalla directory home il plugin Udemy CDM. Grazie a quello lì che ha trovato questa soluzione che l'ho pubblicizzata qualche tempo fa. Se avete anche voi questo problema su KDN, ma anche su altre distribuzioni, si verifica soltanto quando andate a mettere questo cavolo di PPA aggiuntivo. Questa è la soluzione definitiva che vi consente di risolvere la radice del problema. Prima di passare alla parte cicciosa con le notizie riguardando .23.10, vi faccio anche un avviso di servizio. Che è successo? È successo che a quanto pare Google sta iniziando a propinare anche in Italia il messaggio di avviso anti adblock su YouTube. Mi è capitato di incappare in questo pop-up che all'estero era già largamente diffuso, hanno iniziato la diffusione di questo pop-up che ti avvisa che su YouTube devi disattivare l'adblock. L'hanno iniziato a pubblicare prima all'estero, prima negli Stati Uniti e adesso purtroppo è arrivato anche in Italia. Non è una cosa che appare fissa, perché su diverse installazioni con diversi browser mi è capitato soltanto su uno. Gli altri continuano ad utilizzare l'adblock senza avere questo pop-up, questo avviso da parte di Google che mi invita a disattivare l'adblock. Vi faccio vedere nel post che cosa dice questo avviso. Google la butta tutto sul fatto che YouTube consente a miliardi di persone nel mondo di usufruire di un servizio, ma anche di creator, di guadagnare. Che cosa fa? Google, dopo aver mostrato questo pop-up che ci blocca il caricamento della pagina di YouTube, ci propone due soluzioni. O provare YouTube Premium e continuare così a supportare, grazie al nostro abbonamento, che entrate a supportare i creator che noi apprezziamo e che guardiamo su YouTube. Oppure ci consente di disattivare gli annunci, ci avvisa, dice vuoi disattivare gli annunci se non vuoi provare YouTube Premium. E cliccando sul bannerino ci viene fuori una serie di istruzioni che ci spiega come disattivare l'adblock sulla pagina di YouTube. Beh, ce la dimostra per i principali adblock, quindi adblock, adblock plus e ublock origini. Ci fa proprio le istruzioni quelle per persone non imparate di informatica, passando in questo termine. Voi che cosa ne pensate di questo avviso? Nel senso, vi è già comparsa a voi quali soluzioni avete trovato per poter evitare di visualizzare la pubblicità sui vostri computer. Molti di voi so che utilizzano soluzioni come P.O.L. Che dovrebbe tecnicamente risolvere il problema alla radice. C'è da dire che questa è la versione quella soft dell'avviso, che ci avvisa che i blocchi degli annunci non sono consentiti su YouTube. Perché all'inizio giravano screenshot di pop-up più cattivi, nel senso che ci avvisavano che se noi continuavamo a perpetrare l'utilizzo di un adblock con YouTube, con il nostro account, bene, ci avrebbero fatto uno strike, quindi ci avrebbero poi successivamente bloccato il nostro account su YouTube. Chissà se arriverà anche questo qui, nel breve termine, anche in Italia, o se manterranno adesso questa linea più soft che ci avvisa di fare i bravi, di disattivare l'adblock e quant'altro. Fatemi sapere lasciando un commento sulle pagine di Marcosbox e ci tengo poi a, vabbè, ne approfitto anche per dire un'altra cosa. Non so se avete visto sulle pagine di Marcosbox, recentemente c'è stato un abuso, mi scuso, di pubblicità, perché ho cercato di capire come monetizzare il sito e ho attivato gli annunci automatici, gli annunci automatici, quelli di AdSense, che purtroppo mi sono reso conto, non hanno fatto altro che imbrattare le pagine, rendendo il caricamento delle notizie che non mi piaceva. Per questo motivo ho deciso di rimuovere, adesso ho lasciato soltanto un bannerino, quello, diciamo così, a scorrimento dall'alto o dal basso, a seconda se lo vedete da mobile oppure da desktop, che vi mostra una piccola pubblicità. Non va a inficiare nel contenuto della pagina, ma soltanto è un annuncio ancorato in alto oppure in basso. Fatemi sapere se secondo voi è accettabile una pubblicità di questo tipo. Io comunque farò degli esperimenti per vedere se questo rende, o altrimenti poi vedrò di agire di conseguenza rimuovendo anche questo bannerino. Anche se non vorrei toglierlo, perché il tema che utilizzo attualmente per blogger è buggato e non riesco a far attivare l'annuncio, quello dei cucchi e quant'altro. L'unico modo che ho trovato, senz'altro, per poter mostrare l'annuncio sui cucchi e quant'altro, è quello di utilizzare la versione inclusa in AdSense. Quindi il bannerino di AdSense, in un certo senso, mi serve anche per farvi avvisare dei cucchi e rispettare la normativa, quella del GDPR. Vabbè, comunque, poi ne parleremo più avanti. E passiamo adesso all'ospezione, quello gigantesco che vi avevo annunciato all'inizio video, sul riguardante, insomma, il rilascio di Ubuntu 23.10, nome in codice, Mantic Minotaur, che ha avuto un piccolo problema, diciamo, che poi piccolo non è. Innanzitutto, parliamo di questa distribuzione, parliamo di questa nuova versione di Ubuntu. Bene, questa nuova versione di Ubuntu, nella sua edizione principale, viene rilasciata con Gnome 45, che, come avete avuto modo di vedere negli articoli pubblicati negli scorsi mesi, in comitanza che rilascio in Gnome 45, questa nuova versione di Gnome migliora le prestazioni del sistema, rendendo anche l'esperienza utente complessiva più fruda ed efficiente. Lato personalizzazioni, troviamo poi l'aggiunta di una nuova estensione che entra a far parte del pantheon di estensioni che convolgono l'esperienza di Ubuntu Desktop, e si tratta di un fork, perché il Canonical fa sempre così, dell'estensione Tulling Assistant di Gnome, che, come dice il nome, che, come lascia intuire il nome, consente di gestire meglio il Tulling delle finestre, aggiungendo inoltre la possibilità di affiancarlo ad un quarto di schermo, ridimensionare i gruppi di finestre affiancate, insomma, vi rende più produttivi l'utilizzo su ambienti desktop. Ed è una cosa che va a superire una delle gravi mancanze che ha Gnome Shell. E benvenga questo tipo di estensione, sono contento che l'abbiano finalmente deciso di introdurre all'interno del pantheon delle estensioni che compongono l'Ubuntu Desktop. L'altro software, poi vediamo l'introduzione del nuovo App Center scritto in Flutter, di cui vi avevo mostrato anche una video in te prima qualche tempo fa. Ovviamente poi, ad alimentare tutto alla base del sistema, troviamo una versione più recente del kernel, troviamo precisamente il kernel Linux 6.5, con qualche punch di Ubuntu, e Mesa 23.2.1. Questa nuova versione del kernel, oltre ad aggiungere il supporto per hardware più recente, migliora anche le prestazioni e l'efficienza energetica sul processore AMD Ryzen Zen 2, versioni successive. Migliora poi anche le prestazioni per quando si utilizzano partizioni in X-T4, e abilita il supporto AMD FreeSync per impostazione predefinita. Infine troviamo poi altre due novità che riguardano il nuovo programma di installazione scritto in Flutter. Sono due opzioni sperimentali che possiamo attivare, una che serve per formattare il disco nel file system ZFS, ed un'altra, molto sperimentale, che serve per criptografare il disco con supporto TPM. Per farvi vedere quali sono le novità di questa nuova versione di Ubuntu, ho realizzato anche una non recensione di Ubuntu 23.10. Andatela a vedere, andatela a recuperare, è un po' lunghetta, dura 30 minuti, però vi faccio vedere quali sono tutte queste novità. Ci tengo anche a precisare che sono dovuto correre i parli, facendo una piccola correzione al video, che ho aggiunto in un video successivo, mi chiedo scusa, perché che cosa era successo? Ieri sera, quando ho registrato in video, non mi ero accorto della possibilità che c'è all'interno del nuovo app center di Ubuntu, è stata aggiunta un'opzione anche per poter installare i pacchetti in formato DEV, non soltanto in formato SNAP. Allora, precisiamo, loro di default ti propinano i pacchetti in formato SNAP, te li mettono in primo piano, quindi un utente che si trova alle prime armi, si trova lì e va a installare la versione in formato SNAP. Se noi andiamo a fare la ricerca, andiamo poi a selezionare filtro per DEV, possiamo comunque installare il pacchetto in formato DEV. C'è da dire poi un'altra cosa, che comunque questo nuovo app center gestisce la possibilità di aggiornare e rimuovere le applicazioni in un'apposita schermata di gestione, però soltanto quello in formato SNAP. Se noi sullo stesso sistema abbiamo installato, che ne so, dall'app center, abbiamo installato anche VLC non in formato SNAP, ma in formato DEV, sì, ci compare se facciamo la ricerca, però non ci compare all'interno della pagina di gestione per aggiornare e quant'altro. Quindi è una cosa un po' a metà. Lasciate poi un commento a voi che cosa ne pensate di questo nuovo app center, se vi piace. E se anche voi, come me, pensate che questa mossa di Canonical sia volta a propinare ancora di più il formato di pacchetti SNAP. Perché? Perché poi mi sono dimenticato di dirvi anche un'altra cosa. Adesso, quando andate a installare Ubuntu con un Instagram, l'opzione di installazione di default prevede un'installazione minimale della distro, quindi soltanto con browser web in formato SNAP, ovviamente, perché Firefox è in formato SNAP da diverso tempo, e una serie di utility base. Quindi, alla fine, un utente che si trova a installare per la prima volta un punto, di sicuro, quasi sicuramente, utilizzerà l'opzione di installazione quella base, perché di solito uno va avanti, 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 e non va a approfondire. E successivamente, una volta avviato l'app center, si troverà avanti, pubblicizzate, in prima battuta, soltanto applicazioni in formato SNAP. Quindi, diciamo, in una maniera un po' sublora, come ho definito io nel video, per propinare il pacchetto in formato SNAP. Ci sta, perché Canonical sta sviluppando questo formato di pacchetto e ci tiene a spingere, però. L'avrei fatta diversamente, io l'avrei gestita diversamente. C'è poi un'altra notizia, come vi dicevo, che è un episodio incriscioso, sempre collegato al rilascio di Ubuntu 23.10. Se siete utenti di quelli che si fanno prendere subito dalla smania di installare subito la nuova versione della distribuzione, vi sarete accorti che, inizialmente, Canonical aveva pubblicato ieri l'eiso di Ubuntu 23.10, per poi rimuoverle. Sono state poi raggiunte nel corso della giornata, della giornata del 13. Perché hanno dovuto rimuovere l'eiso di Ubuntu 23.10? In prima battuta, perché si sono accorti che all'interno delle schermate dell'interfaccia utente del programma di installazione di Ubuntu 23.10 una delle pagine conteneva delle traduzioni con materiale offensivo. Vi invito a vedere l'articolo che ho pubblicato sulle pagine di Marcosbox per vedere che cosa conteneva quella pagina. Un episodio molto incriscioso che ha costretto appunto a ritirare l'eiso da parte del team di Canonical, di ritirare immediatamente, di ricreare l'eiso sia per Ubuntu 23.10 che per Ubuntu Bagi 23.10. Gli altri feo ufficiali di Ubuntu 23.10 non erano afflitti da questa traduzione malevola, chiamiamola così, perché di fatto è una traduzione del programma di installazione contenente brutte parole che è stata proprio nata, è stata caricata su Github da un individuo e mi meraviglio però io, io quello che mi meraviglio è che mi viene da pensare perché questi episodi incresciuti che stanno continuando, cioè questi incidenti di percorso, ecco diciamo così, che stanno continuando a capitare Ubuntu. Qualche settimana fa parlavamo del software ma che avevo distribuito tramite lo Snap Store. Adesso questa traduzione che incitava l'odio verso l'odio raziale è stata introdotta all'interno di Ubuntu. Nessuno se ne è accorto? Cioè, si è arrivati praticamente a pubblicare la distribuzione e accorgersi che quella pagina conteniva una traduzione. Canonical andrebbe un po' dovrebbe un po' cercare di migliorare un po' i sistemi di verifica dell'ISO e dei contenuti perché a sto punto qualsiasi contributore esterno può far quello che vuole, può propinare localizzazioni sbagliate, può mettere messaggi oltraggiosi come quelli che sono stati pubblicati su quella pagina e queste le modifiche arriva direttamente sull'ISO di Ubuntu e cioè, mi pare... non mi pare una cosa molto... cioè, Canonical ho capito che non è il tuo più core business quello Ubuntu Ubuntu Dextro però non è il tuo più il core business però un po' più di attenzione sì, la coppa è anche nostra di molti utenti che utilizzano Ubuntu utilizzano Linux in generale utilizzano software libero in generale e non controllano non si fidano, diciamo così, ciecamente degli altri e non mettono attenzione in eventuali problemi di sicurezza o quant'altro nei pacchetti perché... sì, è vero noi, gli utenti Linux spesso e volentieri siamo troppo fiduciosi negli altri però il mondo là fuori fa schifo la gente fa schifo la gente... c'è gente là fuori che non... non vede l'ora di... di commettere determinati atti si diverte a discapito a discapito della maggioranza anche a discapito di chi di chi è in buona fede e... non lo so boh far riflettere questa cosa non vi ripeto le parole che sono state dette vi invito a leggere l'articolo su su Marcos Box ma sono veramente brutte cose che sono state pubblicate poi Canonical all'inizio l'ha definito come un un incidente così di percorso però boh mi sembra una cosa molto seria da affrontare fatemi sapere voi che cosa ne pensate ecco questa ultima notizia si conclude qui questa 155esima puntata del podcast di Marcos Box io come sempre vi ricordo di seguirmi sulle principali piattaforme social mi trovate su facebook mi trovate su x mi trovate su youtube con il canale youtube mi trovate su podcast sulle principali piattaforme di podcasting mi trovate su amazon music apple music google music mi trovate su amazon mi trovate su amazon music su amazon c'è anche la skin che programma Igo Temple che poi non ho più aggiornato anzi questa è una cosa che devo fare devo rimettere mano alla skin per amazon Alexa mi trovate poi su linkedin con il profilo privato mi trovate su mastodon dove sono all'attivo sto vedendo che finalmente dopo l'appello ho fatto qualche puntata adesso la gente inizia a commentare quindi sono contento che non fate più i timidi così avviamo un po' di discorsi che è sempre bello confrontarci e soprattutto vi ricordo che sono presente su telegram sono presente su telegram con un canale dove che poi è utilizzato diciamo così a modi feed reader dove vengono ripubblicati gli articoli mi trovate sulla community telegram collegata dove potete parlare commentare notizie ma parlare anche del più o del meno c'è il cazzeggio libero quindi potete entrare e dire quello che volete ovviamente rispetto degli altri e parlare di qualsiasi cosa e infine trovate un canale di telegram dedicato alle offerte amazon che potete utilizzare per supportare il blog acquistando dai miei link referral se volete potete anche acquistare direttamente utilizzando il mio codice referral marcusbox-21 che comunque è pubblicato sul blog lo trovate nella colonna a destra quindi va copiato e incollato se sapete come fare infine vi ricordo che potete supportare anche il blog acquistando una VPN se dovete acquistarlo oppure rinnovarla a scelta tra NordVPN Surfshark e Atres VPN sulle pagine di marcusbox sempre sulla destra trovate gli articoli con tutti quanti i link referral detto questo ho concluso lunga vita e prosperità a tutti quanti e ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di marcusbox ciao 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 Grazie a tutti.